Sono Andrea Ottilivio, docente master suono, corso live sound design, sono stato invitato qui all'audio forum e sono felicissimo di trovarmi in questa splendida ambientazione dove possiamo scambiare pareri e opinioni sui sistemi dell'audio professionale e sulle diverse metodologie di misura di questi sistemi. Mi consola perché ero venuto apposta per valutare le diverse alternative che oggi offre sia il mercato ma che il problema forse siamo noi tecnici che ognuno utilizza la propria metodologia e spesso non abbiamo un vero standard diciamo col quale confrontarci quindi momenti come questi sono molto molto importanti. Al momento siamo legati all'ES in quanto corso di ingegneria elettronica e quindi non sono un vero membro in maniera diretta però in diretta sì. È una grande occasione questa è l'audio forum proprio perché c'è la possibilità di mettersi a confronto con persone che realmente contano in quest'ambito di se vogliamo ancora ricerca. Questo settore se diventa una passione, un hobby è qualcosa che ti gratifica in maniera eccezionale.